Dopo il podio con la Ferrari, la vittoria con la Lamborghini, questa volta l'automobilista pesarese Diego Di Fabio si è messo al volante della Lotus ed è arrivata un bel successo nel weekend di gare in Francia. Diego, ti si dà un volante e in qualche modo riesci a tirarne fuori almeno un podio? Noi la pezza la mettiamo sempre, il gas glielo diamo, quindi un podio lo strappiamo sempre. No, sono contento, tre gare in un weekend, tre podi, due secondi posti e una vittoria la domenica nella gara Endurance, sono contentissimo, un weekend ottimo. Weekend in una pista francese che tra l'altro era completamente strana anche ai tuoi percorsi precedenti? Sì, completamente nuova, non l'avevo neanche mai sentita, mai provata il simulatore, che di solito le provo il simulatore, non avendo tempo da altre gare, altri impegni lavorativi, quindi sono arrivato là, l'ho scoperta il venerdì e siamo andati subito molto bene. Ecco, c'è stato questo rimbalzo tra categorie diverse, macchine diverse, come procede la tua stagione e anche lo sguardo sul 2025? No, sta procedendo assolutamente molto molto bene, sto rimbalzando dalle varie macchine da l'una all'altra, tra la Ferrari, tra la Lamborghini, la Lotus che è completamente diversa, non c'entra niente dalla Lamborghini e dalla Ferrari, però ci stiamo trovando bene. Alla fine il podio esce sempre, quindi non posso dire nient'altro. Le prossime competizioni ti porteranno a Monza e Barcellona e c'è anche una sfida del tutto inedita? Sì, assolutamente sì, prossimo weekend, ultima gara del GT Sprint con la Ferrari, con la 488 a Monza e il weekend dopo, quindi doppio weekend back to back con la Lamborghini per la prima volta nel Super Trofeo Europeo, infatti a breve arriverà sui miei social l'annuncio che farò l'ultima gara del Monomarca Lamborghini europeo a Barcellona, che non ci sono mai stato, infatti scopriremo anche lì nuova pista e sarà interessante con la Lamborghini anche lì a Barcellona. Grazie a tutti!